Inizia la stagione dei riconoscimenti per le spiagge del comune di Castellabate. Si parte con la bandiera verde. Un'indagine condotta fra un campione di oltre 2000 pediatri italiani ha riconosciuto il tratto di litorale di Santa Maria tra i gioielli a misura di bimbi e famiglie. Castellabate riceve nuovamente il riconoscimento, visti i requisiti di acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia pulita per costruire castelli, la presenza di bagnini e nelle vicinanze di gelaterie e ristoranti adatti alle esigenze dei più piccoli. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri, che commenta così il riconoscimento. Un'ulteriore dimostrazione che attesta il lavoro quotidiano portato avanti per la salvaguardia dell'ambiente e delle nostre bellezze paesaggistiche. Un successo condiviso con la comunità e soprattutto con le tante strutture ricettive e gli operatori commerciali e balneari che si impegnano per fare del nostro territorio la meta preferita da tante famiglie. La bandiera verde completa inoltre la rosa di vessilli che sventolano da anni sul nostro litorale, dalla bandiera blu alle cinque vele di legambiente.